Ho smesso di credere nella politica da anni, sono tutti uguali. Un giorno conobbi Monica di persona, Monica Cirinna, e lì ho capito che esistono ancora persone come lei disposte ad impegnarsi per gli altri. È la persona giusta per riuscire a portare avanti tutte le altre battaglie che sono rimaste indietro, come quella della parità salariale, quella del salario minimo garantito. Io il 25 settembre andrò a votare il PD e Monica Cirinna, perché? Perché ho 24 anni, probabilmente anche voi avete la stessa da mia, ci proviamo, perché se non ci andiamo abbiamo già perso in partenza. È sempre stato il mio sogno sposarmi sin da ragazzino, ma purtroppo ci era impedito. Grazie poi alla legge che ha fatto Monica Cirinna, quando ho conosciuto la persona giusta che è accanto a me da 4 anni, ed è un uomo, questo sogno si è avverato. Tornare indietro mi terrorizza. Ho sempre votato per le persone come Monica, che si sono impegnate nel sociale, nell'ambiente e soprattutto nella vita dei nostri animali. Il coraggio di avere coraggio. Il 25 settembre per il Senato, scheda gialla, vota Monica Cirinna, collegio uninominale Municipi VII, parte dell'VIII, IX, X, Fiumicino e Ciampino.